Be Selfie Deep Be Selfie Deep è un trattamento di bellezza di livello professionale, ideato per un uso domiciliare. Facile, veloce e in dolore, promuove un istantaneo e duraturo effetto tensore, botox-like e filler-like. Come funziona Be Selfie Deep? La sua rivoluzionaria tecnologia diffonde in profondità, in modo completamente in dolore e senza sanguinamento, uno straordinario siero rivitalizzante. Come utilizzare Be Selfie Deep? L'applicazione del prodotto è semplicissima e consente di scegliere tra i microaghi per la veicolazione intraepidermica e l'applicatore per l'uso topico. Prima di iniziare il trattamento, detergi il viso con l'acqua micellare Be Selfie Angel e passa un disinfettante. Prendi la busta trasparente dalla confezione di Be Selfie Deep ed aprila per estrarre la testina con i microaghi. Ora prendi la siringa e monta la testina, avvitandola sulla siringa. Rimuovi il tappo protettivo della testina, avendo cura di non toccare i microaghi, e inizia l'applicazione. Appoggia verticalmente sulla pelle la siringa esercitando una leggera pressione. Premi una sola volta sullo stantuffo, per poi passare alla zona circostante, ripetendo l'operazione. Partendo dall'area intorno alle labbra, procedi dal centro del viso verso il contorno, sia per il lato sinistro, sia per il lato destro. Ricordati sempre di non sfregare l'applicatore con i microaghi sulla pelle, potresti ferirti. Esegui ora la stessa procedura anche per la fronte, partendo dal centro verso l'alto. Distribuisci infine il prodotto in eccesso sul viso, picchiettando con i polpastrelli, fino al suo completo assorbimento. L'applicazione intraepidermica potrebbe provocare un leggero rossore che svanisce in breve tempo. Se preferisci la veicolazione topica, monta l'applicatore in plastica sulla siringa e rilascia il siero su tutta la superficie da trattare. Distribuiscilo picchiettando con i polpastrelli, fino a ottenerne il completo assorbimento. Per completare il trattamento, ti consigliamo di applicare la maschera di bellezza Be Selfie Infinity. Apri la busta ed estrai la maschera. Quindi posala sul viso. Mentre attendi che Be Selfie Infinity agisca sulla tua pelle, rilassati e tieni la maschera in posa. Dopo 20 minuti, togli la maschera e massaggia il viso fino al completo assorbimento del prodotto in eccesso. Ora puoi concludere il trattamento di bellezza con la crema Be Selfie Miracle. Metti una noce di crema sulla mano e applicala sul viso, massaggiandolo fino al completo assorbimento. Il tuo straordinario trattamento di bellezza Be Selfie Deep, semplicissimo da applicare e dall'effetto immediato, è terminato.